Inizio, 2, 1, inizio e inizio! E se legato dall'esperienza dei DLC, perché questi espandono ulteriormente la storia, quello che dicono tutti che potete leggere anche in internet, il gioco espande la storia fino alle 100 ore o più con anche i DLC? Beh, per me che ho finito il gioco base vi posso dire assolutamente sì! Mi sento in dovere di recensire questo titolo anche perché ne sento spesso di parlare come un gioco mediocre, pieno di bug. L'ho visto spesso anche in posizioni arretrate nelle varie classifiche di migliori giochi a sfondo mediovale o, ancora meglio, tra i giochi di ruolo. E quindi adesso andrò abbastanza a ruota libera nel parlarvene senza seguire ordini precisi. Kingdom Come Deliverance non è assolutamente un gioco per tutti, ad iniziare dal combattimento. Dovete seguire le esercitazioni di Master Bernard, infatti i duelli con lui vi aiuteranno a rendere più facili i duelli futuri. Ma non basta questo tutorial. Dovete avere la voglia nel corso dell'avventura di esercitarvi continuamente e costantemente, in modo da apprendere sempre nuove tecniche e imparare il tempismo del combattimento. In gioco comunque dovrete combattere, ma spesso potrete anche evitarlo. Potrete livellare la vostra dialettica, infatti tanti combattimenti io nella mia avventura li ho evitati così. Ma ricordatevi anche che una fariccia in faccia, per quanto non onorevole, è senz'altro letale. E ricordatevi anche, perché questa è un'altra critica che ho sentito anche da amici, a volte vi ritroverete in combattimenti con più persone, beh calcolate che non siete mai soli, quindi nelle battaglie di massa aiutate i compagni, questo è utile, perché nessuno combatte mai per se stesso. Ricordatevi anche che le soluzioni sono molteplici nel risolvere i vari scontri. Quindi scoprite un accampamento, beh potrete assaltarlo la notte quando tutti dormono, o comunque ci sono meno persone in giro, quindi potrete ucciderli nel sonno. Quindi il gioco vi lascia una discreta qualità di azione. Il gioco, mi sento di definirlo, l'esperienza più immersiva che io ho provato in un gioco di ruolo. L'unica che dà davvero un senso all'esplorazione, questo l'avevo detto anche in altri video, che vi fa entrare nel cuore i personaggi, gli ambienti, che vi catapulta in una società e uno stile di vita che sicuramente non è facile. Potrete tenere nel guardaroba dei vestiti nobili, magari acquistati con i soldi frutto delle vostre fatiche, dei vostri lavori, della vostra caccia, insomma. E questo vi permetterà di rendervi presentabili prima di incontri ai diplomatici, quando la storia vi dice incontra al tizio e convincilo a vestirvi bene, vi farà fare una buona impressione. Un'altra cosa, un altro punto importante che mi sento di precisare, senza fare spoiler, sappiate che il gioco non vi mette fretta. È vero che alcune missioni vanno risolte in breve tempo, ma si tratta per lo più di partecipa al torneo in questa giornata, non lo fai, non... Ma le altre missioni potrete tranquillamente, non è realistico, è vero, ma è un gioco, se ve ne andrete in giro a farvi gli affari vostri, la missione resterà lì. Quindi potete, vi dicono, devi assolutamente trovare chi vuole uccidermi, non lo fai, lo fai il giorno dopo. Il gioco resta lì ad aspettarti, perché sennò faresti solo la quest principale. Potrete decidere la vostra routine di vita, alzarvi al mattino, andare a cacciare mattina presto, per vendere la carne e fare i due spiccioli. Il pomeriggio, invece, dopo pranzo, magari potrete andare ad allenarvi con la spada, o magari non siete vicini al campo d'allenamento dove andate solitamente, potrete andare a fare pozioni ad un tavolo di alchimia che è sempre gratuito. E magari mettervi lì e spendere qualche ora di gioco per sperimentare nuove pozioni. È vero, esistono le wiki, ma nulla vi vieta di provarle. Invece di comprare le ricette in gioco, potrete tentarle a caso. Sappiate anche che la realizzazione tecnica è molto meno peggio di quanto si dice in giro. È vero, le comprenetrazioni ci sono, magari rimarrete bloccati perché finite per sbaglio in una fossa scavata, magari non per voi, però nelle tombe vi sono rimasto incastrato diverse volte e non succede niente, saltate finché uscite. L'unica cosa che mi è successa. Ma il dover ricaricare per dei problemi grossi non mi è mai successo, quindi gioco disastro non è vero. Il gioco comunque ha un concetto fondamentale che avevo espresso anche per un gioco come Cyberpunk 2077. Dovete ricordarvi che voi siete il protagonista della storia, quindi potrete macchiarvi di qualche delitto, ma non potete diventare la re della gilda degli assassini. Diventare un fuorilegge a tutti gli effetti. Potrete decidere, sì, di giocare corretti, di rubacchiare, un pochino borseggiare, darvi delle piccole scorciatoie in termini economici, in termini di rubando equipaggiamento, insomma rivendendole, fare soldi così. Ma ricordatevi che comunque uccidete delle persone, stona un po' per la trama finale vista nel suo insieme, io che l'ho finito. Sappiate anche che la trama è molto interessante, abbastanza lunga e nasconde dei colpi di scena piuttosto forti. Detto questo, vi voglio raccontare l'esperienza Fulcro, che è probabilmente uno dei motivi per cui io voglio parlarvi di questo Kingdom Come Deliverance. Arrivati a un certo punto, potrete, avete la possibilità, almeno il gioco mi ha presentato la possibilità anche di non farlo, ma io ho deciso di farlo, di entrare in un convento, in un monastero, monastero, insomma di novizi e insocanziali, religioso quindi. E voi vivrete questo monastero come membro effettivo, infiltrato, va bene, nessuno lo sa. E da questo monastero voi magari vedrete il mondo da queste finestre per diversi giorni, non potrete uscire. Vedrete da quello stesso monastero a cui siete passati a fianco per tante volte facendo missioni, vagando in giro, l'avete visto, nessuno vi faceva entrare ovviamente. E ora, in quel momento lì, preciso dell'avventura, i ruoli sono invertiti. Cioè voi osservate il mondo da quelle finestre un po' opache, mentre magari vi alzate la mattina alle quattro, andate alla messa, messa stupenda con i canti gregoriani, vi capiterà di mangiare in un refettorio con i vostri confratelli e mettervi a lavorare, a copiare testi in latino, a fare pozioni. All'interno di questa esperienza, perché sembra quasi un discapist, nel senso che vi alzate la mattina, avete tutta la routine da fare, potrete stringere delle conoscenze, risolvere i misteri all'interno del monastero, scoprire cose, scoprire cose nascoste. Oppure, perché no, magari la notte, cercando di vedere se c'è qualcuno che come voi sta, diciamo, non sta rispettando il regolamento. Potrete essere addirittura cacciati, puniti, imprigionati, ma diciamo che in questo caso mi sento di fare anche un applauso agli sviluppatori, perché soprattutto in questo ambiente, nonostante loro non siano un team enorme, un team AAA, i canti che si sentono, i rimbombi nella chiesa, li ho trovati veramente eccezionali. Un'immersività, è proprio stata un'esperienza, un'esperienza, tanto che mi ha portato un po' a un esaurimento, perché era veramente pesante non poter fare. Poi potevo andarmene in qualsiasi momento facendo qualcosa di grave, insomma, però io avevo il mio lavoro da fare lì. E quella è stata una bella cosa, perché appunto, come ho già detto, è stato un edificio in cui sono passato tantissime volte fuori, ma non sapevo cosa ci fosse dentro. E quello che c'è dentro non è una cosa che viene caricata, è in tempo reale. Infatti, a fine gioco io ho avuto la possibilità di, con un'abilità di scassinamento o altra, di rientrarci. E dentro succedeva tutto esattamente come quando io ero un membro di quel monastero. Cioè, il gioco procede, non viene caricato a circostanza, e questa è una cosa bellissima. In gioco, in conclusione, esistono anche le statistiche delle armi. Quindi, mi lo fa più assomigliare a un gioco di ruolo di quelli power, dove voi prendete l'arma più... È vero, ci sono le armi più potenti, quelle più veloci, quelle che hanno dei requisiti di forza. Però ricordatevi sempre, come vi ho già detto, che la freccia in faccia, ovviamente senza elmo, è uguale per tutti, non guarda in faccia nessuno. Quindi, il gioco adatto a voi, beh, se non siete dei power player e amate vivervi la vita, quindi come ho detto, mangiare alla locanda, facendo missioni, immergendovi nella vita di un giovane come Henry, empatizzare verso i personaggi, odiarne altri, iniziare appunto a ragionare come un ragazzo del Medioevo, beh, Kingdom Come Deliverance sarà il vostro capolavoro, così, d'altronde, come lo è stato per me. Un grazie a tutti e alla prossima!